Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti 21-28 Miracolo di Gesù, l'esorcismo nella sinagoga di Cafarnao Taci, esci da quell'uomo Non è chiaro quale sia l'ordine cronologico esatto dei miracoli di Gesù, quelli che ha fatto quando era in vita sulla terra, ma tra questi venne uno descritto molto bene nel Vangelo secondo Marco, al capitolo 1, versetti dal 21-28 Mentre Gesù stava insegnando nella sinagoga di Cafarnao, un uomo gridò contro di lui, imprecando, e Gesù gli ordinò di tacere. Poi scacciò il demone che lo possedeva. Tutti i presenti rimasero increduli e la fama di Gesù si espanse per tutta la Galilea velocemente. Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti 21-28 Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare ed erano stupiti del suo insegnamento perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare Che c'entri con noi, Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù lo sgridò Taci, esci da quell'uomo. E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda. Ma chi è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino gli spiriti immondi e li obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, nei dintorni della Galilea.